Abbiamo deciso di lanciare finalmente in Sicilia una scuola di formazione politica. Abbiamo deciso di farlo nell'occasione dei cento anni dell'appello a tutti gli uomini liberi e forti lanciato da Dosturzo. Una scuola di formazione politica che punta ai principi di giustizia sociale, della dottrina sociale della Chiesa, ai principi della cooperazione e della solidarietà. Già Sturzo era convinto di rilanciare i temi dell'autonomia partendo dal basso, partendo dai comuni, partendo dal coinvolgimento della base. Oggi noi lo rifacciamo riattualizzando quei temi e ponendo al centro la questione del sud, la questione del mezzogiorno. Il tema di tutte quelle regioni che purtroppo dopo la fine del regno delle due Sicilie si sono ritrovate ad un tratto di essere povere. Non era assolutamente vero fino a quel momento che le regioni del sud erano le più povere, anzi al contrario. Da quel momento ha continuato una storiella a ripetersi, un disco incantato, dove le regioni del sud erano quelle che rubavano le regioni del nord. Ma io dico, se veramente questo fosse accaduto, come è mai possibile che quelle regioni hanno continuato ad essere per tanti decenni le regioni più povere? Qualcosa non va. La storia ci è stata raccontata per il verso sbagliato. Oggi noi ripartiamo da lì. Rilanciamo il tema dell'insularità, il tema delle zone ad economia speciale. Rilanciamo quei temi che guardano alla vocazione naturale e produttiva di una bellissima terra come la Sicilia. Lo facciamo in 12 moduli. Una scuola di formazione che dura un anno intero e che integra le lezioni in un assetto didattico con un approccio più dinamico. Per cui sarà data la possibilità ai corsisti di partecipare a iniziativi, eventi, ma di confrontarsi anche con strumenti come interrogazioni, atti aspettivi. Tutto questo in una cornice accompagnata da docenti di grande livello per cui vi aspettiamo. Vi aspettiamo venerdì 18 alle ore 16 a Palermo in via Castellano 110 all'Istituto Annibale di Francia.